Salve a tutti per le guide di Sodi Linux sono Francesco Fusillo e voglio in questa guida spiegare come si crea una chiavetta USB con Windows la chiavetta USB con Windows ci servirà per usarla in formato live quindi avviare il PC da chiavetta e poter provare Sodi Linux, i suoi programmi e tutte le sue funzioni senza la necessità di installarlo non ha complete funzioni perché mancano le immagini di Rawwar e tante altre cosette fonte di Microsoft, Google Earth, Skype però se si decide di installarlo basta fare la post installazione con Sodi Linux Extra e l'aggiornamento e il vostro Sodi Linux sarà meglio o uguale di tutti i sistemi che avete usato quindi dopo che sono andato nella collana di Sodi Linux e scaricato Orizzonti eccolo qua, 64 o 32 bit, clicco e aspetterò un bel po' perché ho da scaricare 3 giga e mi troverò il mio Sodi Linux nella cartella download allora io per comodità me lo sono tirato fuori e poi vedrete perché è più facile da spiegare fatto questo ho il file immagine che mi serve per fare la chiavetta devo aver inserito dentro una chiavetta poi vado su il nostro Google e scrivo un netbooting un netbooting, eccolo qua, è il programma per fare le chiavette che c'è sia per Windows, Mac e Linux clicco scarica e dopo qualche secondo perché questa rete è fibra lo troverò, eccolo qui, nella cartella download doppio clic e parte ecco il mio un netbooting un netbooting non fa altro che esplodere il nostro file ISO nella chiavetta e creare una chiavetta buttabile con Sodi Linux quindi dovrò andare a cercare con il navigatore il mio file ISO sul desktop qua c'è scritto tutti i file, se io metto ISO trova solo quello ok, e non ci si sbaglia poi andare a vedere che lettera ha dato la chiavetta la chiavetta l'ha chiamata H, eccola qua, vedete è la chiavetta che ho messo dentro che diventerà la chiavetta per Sodi Linux è una H, eccola là spazio riservato per i file che verranno protetti da vari riavvii allora, praticamente, io qua gli dico, questa chiavetta qua, tu mi fai vediamo se lo accetta, eccolo qua 2 giga di spazio per archivare i miei dati quindi praticamente verrà fuori un piccolo disco fisso dove c'è sia il soddilineo che uno spazio per metterci qualche dato e poi di salvare la sua chiavetta appena dico ok, ecco che comincia il mio lavoro di come dire, sta facendo il formaggio cioè spalma tutto questo file qui dentro c'è da aspettare che faccia tutta l'operazione quindi, quindi, estrazione, installazione e completamento io metto in pausa e aspetto alla fine ecco, è passato un quarto d'ora perché ho usato una chiavetta USB 2 non velocissima e adesso dice che dopo questo rebooting seleziona USB dalle opzioni di boot e vedrai che partirà perché l'installazione è completa quindi la mia chiavetta adesso contiene soddilinux e anche tutte le funzioni per far buttare questo soddilinux buttare, cioè far partire la macchina con soddilinux da chiavetta tutto qua quindi, ricapitolando bisogna dotarsi di unetbooting unetbooting cartella download doppio clic parte dotarsi di soddilinux in formato immagine e poi avviarlo con gli indirizzi giusti tutto qua per le guide di soddilinux Francesco Fusillo vi ringrazio per avermi prestato attenzione e buona sperimentazione